Siamo qui questa sera per la presentazione di Matteotti, figlio del Polesine, un libro scritto a quattro mani con Francesco Iori che racconta la storia di Matteotti nel contesto storico e sociale del Polesine tra 8 e 900, con richiami e rimandi anche all'attualità e a quella che secondo me Iori è la straordinaria attualità del messaggio politico, etico e civile di una figura come quella di Giacomo Matteotti.